una buona serata a tutti da marcus buon giovedì sera allora estrazione del 28 di aprile la penultima estrazione del mese che si è appena conclusa cosa è successo allora nessun risultato per il 34 era l'ottavo colpo di gioco il nono colpo di gioco come vi dicevo sabato prossimo fattibilissimo colpo di gioco nella previsione unica che ho dato qua su youtube secondo colpo di gioco che si è appena trascorso su telegram ancora nulla per quel numero si va avanti ovviamente perché la previsione è fresca allora 23 condizioni da farvi vedere 21 22 somma 43 a torino 14 20 somma 34 87 37 somma 34 per cagliari voi sapete che quando una ruota quindi gemelle in questo caso come la ruota di cagliari può ricevere una somma 34 se non più somma 34 in automatico può riflettersi anche su torino qua abbiamo una somma 43 attenzione siamo davvero vicini a questo 34 di torino c'è un'altra spia un numero spia che porta 34 su torino ci sono tre situazioni per il 34 di torino vediamo sabato che cosa succede quindi non lo colpo guardate firenze 1 89 non solo formano la somma 90 ma sono i laterali del 90 probabilmente firenze sarà la prima ruota con il 90 in arrivo quindi abbiamo detto cagliari firenze napoli palermo le altre ruote con il 90 probabilmente firenze dovrebbe essere la ruota primaria quindi 1 89 somma 90 ma abbiamo anche i laterali 1 89 quando è così la previsione è potente dovrebbe uscire primariamente su firenze ovviamente poi cagliari napoli e palermo va bene quindi tutto è fermo sabato vedremo cosa succederà ok un abbraccione ancora voi tutti da marcus e ancora buon proseguimento di serata ciao 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 ciao